L'8 agosto è la giornata internazionale del gatto e sono molti luoghi, soprattutto in Asia, che venerano questo felino come un intero villaggio a Taiwan, con decine di gatti che hanno eletto a loro residenza Wutong, un ex villaggio di minatori, divenuta una delle maggiori attrazioni turistiche nel nord dell'isola. Incastonato in una valle a un'ora da Taipei, il villaggio si è spopolato con il declino dell'industria mineraria locale nel 1990. Amo questo posto perché è pieno di gatti, amo molto i gatti, dice questa turista, e qui è pieno di turisti. Non sono aggressivi, si avvicinano un po' alle persone, sono molto fotogenici, aggiunge. È stato un fotografo nel 2008 a scoprire questo villaggio e a renderlo famoso. A Hong Kong invece esiste un rifugio per gatti in una libreria situata in un semi interrato. Ad accompagnare i clienti nelle loro ricerche ci sono circa 40 felini. Capita spesso che tra una carezza e uno spuntino ci scappi qualche gioco. Spero che la gente venga qui per leggere o cercare qualche libro e non per giocare con i gatti, spiega la libraia Caroline Chan. I gatti hanno la loro vita, non sappiamo se meditano, pensano alla loro vita e noi la interrompiamo. Io penso che i gatti siano dei filosofi, non si sa mai a cosa pensino. Ormai celebre su Instagram invece il Tempio Gotukui a Tokyo, dedicato ai gatti con migliaia di statuine e porta fortuna chiamate Manekineko. I gatti non vengono a portarvi la fortuna, siete voi che dovete andarli a cercare, dice il vice responsabile del Tempio, Tesai Kasukawa.